E' da poco terminato al Palafemac l'allenamento congiunto fra Autostop Tressina e Pallavolo Chiusi, un bel 2-2, una Pallavolo di buon livello, facciamo dei chiacchiere con due delle protagonisti, le schiacciatrici entrambe laterali, Arianna Cicogna e Aurora Fiorini, si ritorna a giocare, Auri per te dopo tanto tempo finalmente, vi siete confrontate con una squadra che non affronterà il vostro girone però il vostro campionato, quindi si è visto a tratti un bel equilibrio, a tratti una prevalenza di una squadra rispetto ad un'altra, però tutto sommato un buon test. Sì esatto, loro sono una buonissima squadra, noi oggi abbiamo avuto alcuni alti e bassi che avremo modo di curare meglio in allenamento, però alla fine ce la siamo cavata bene, abbiamo finito con un 2-2 e prenderemo spunto per i prossimi allenamenti e per le cose da curare. Arianna Cosa penso della partita? Sì dai Come ogni amichevole che si rispetti è finita 2-2, loro sicuramente sono una buona squadra, ci hanno messo in difficoltà in attacco, hanno un buon laterale, noi sicuramente siamo ancora agli inizi, dobbiamo un attimo imparare a giocare insieme, però comunque ci troviamo bene fra di noi, quindi speriamo che col tempo anche questi alti e bassi che abbiamo durante l'amichevole si possono risolvere. C'è da dire anche che il sessetto bianco-nero rispetto all'anno scorso è completamente cambiato, comunque vi siete trovate a giocare insieme, credo che a parte Federica Cerbella, poi del rossa dell'anno scorso, questo di quest'anno è completamente nuovo, quindi ci vuole anche del tempo per trovare l'intesa giusta, vero? Esatto, anche perché penso che in un campionato come la B2 il gruppo viene prima di tutto, nel senso dal momento che c'è una buona squadra unita, che gioca bene insieme, già la metà del lavoro è fatta, quindi sicuramente dovremo lavorare soprattutto su quello. Benissimo, ringraziamo Aurora e Arianna, ci faremo sapere per la prossima amichevole al Palafema che intanto... La Linda è gelosa, vuole un pezzettino di... Linda è Linda, Tarducci ha i bagagli, non so dove deve andare, con le scarpe e tutto, Linda vieni, Linda vieni. Va bene, vuole fare un saluto, la prossima volta allora Linda sarai dei nostri, vi ringraziamo ragazzi e buona serata. Scambiamo due chiacchiere anche con il coach ospite, Michele Cacciatore, allenatore del Chiusi, un buon test, un bel 2-2, una bella pallavolo, a tratti prevalenza di una squadra rispetto a un'altra, ma tutto sommato una piacevole partita. Miglior allenamento possibile, così invece che allenarci in casa siamo venuti qui in trasferta, poi abbiamo tanti amici, sempre piacevole fare qualcosa di utile, ci siamo divertiti. Peccato non vedersi nel campionato, Michele, perché purtroppo siamo in due gironi diversi, però non ci sa mai nel futuro. Sì, io... peccato sempre non trovare, ribadisco, gente con cui hai dei rapporti perché vittoria e sconfitta le gestisci in maniera differente. Detto questo, ci sarà sicuramente modo, perché credo che Trastin avrà possibilità di far bene e quindi se solo per questo ci sarà modo anche di rivedersi. Chiusi in un girone complicato, ma teremo duro. Teremo duro e bocca al lupo. E credo. Grazie per l'intervista. Grazie.